Sono loro i protagonisti di giornata in casa Sampdoria, i ragazzi della primavera di Mister Fulvio. E' tutto loro il proscegno del giovedì in blu cerchiato, con l'attesa crescente per l'andata della finale Team Cup, in programma questa sera al Ferraris. Amarassi ha atteso una cornice di pubblico davvero importante, per una sfida, quella con l'Atalanta, assolutamente storica per tutto l'ambiente blu cerchiato. Ma in passato, infatti, la squadra di punta del nostro settore giovanile aveva raggiunto un risultato del genere. Una partita da non perdere, per la quale verranno aperti gratuitamente a tutti i sostenitori della Samp i cancelli del settore distinti, a partire dalle ore 19.30. Fischio d'inizio fissato alle ore 21. Arbitro il signor Peretti di Verona. Al termine della rifinitura matutina sul campo 3C di Bogliasco, il tecnico di Casal Pusterlengo ha ufficializzato i 19 convocati per il match di questa sera contro i Nerazzurri. Tutti abili e arruolati i nostri ragazzi, reduci peraltro dalla importante vittoria del derby di campionato contro il Genua, andato in scena sabato sul Green della Sciorba. Un successo che ha mantenuto la Samp ad un solo punto di distacco dalla Juventus, capolista del girone A. E dopo il turno di riposo concesso da Mr. Pea, questa sera al centro della difesa farà il suo ritorno anche Capitano Matteo Lanzoni. Sì, bellissima emozione, a parte tutta la squadra sarà una grande prova, una grande prestazione, cercheremo di dare il massimo per portare a casa l'andata che è molto importante per noi. www.sampdoria.it, portale ufficiale dell'Unione Calcio Sampdoria, seguirà in tempo reale l'incontro di questa sera, con aggiornamenti, interviste ed una ricca fotogallery. Domani invece, sempre qui su Samp Web TV, si potranno rivedere le immagini della partita, impreziosite da ulteriori interviste esclusive e dai commenti del dopogara. Opportunità che diventerà col tempo una piacevole costante per tutti i sostenitori del Doria, che fin dalle prime ore susseguenti al lancio del canale telematico blucerchiato hanno dimostrato curiosità ed entusiasmo per la nuova iniziativa voluta dal club di Corte Lambruschini. Primavera protagonista, ma le attenzioni dei tifosi della Samp sono come sempre incentrate sulle notizie provenienti dal centro sportivo Gloriano Mugnaini di Bogliasco. Al poggio si è lavorato duramente anche questo pomeriggio, sotto un magnifico sole e con temperature decisamente primaverili. Partitella a ranghi misti per volpi e compagni, con il gruppo di Walter Mazzarri integrato da alcuni elementi degli allievi nazionali di mister Manuel Montali. Sfide giocate su tre tempi di mezz'ora ciascuno, durante il quale il tecnico di San Vincenzo e di un suo vice, Nicolò Frustalupi, hanno studiato un'infinità di soluzioni tattiche da proporre nel prossimo incontro di campionato contro il Livorno. Una partita dal peso specifico non indifferente per la Samp, come conferma Daniele Guastaldello. Beh certo, visto le ultime partite e gli ultimi risultati, certamente sarà di grande slancio e non dobbiamo fermarci assolutamente perché il nostro obiettivo adesso resta quello di conquistare più punti possibili per arrivare non si sa dove. Noi il nostro obiettivo principale è quello di conquistare la Coppa UEFA, però poi se arriva qualcos'altro meglio ancora. Solo una novità da segnalare nel pomeriggio di lavoro al Mugnaini. Affaticamento muscolare a polpaccio per Emiliano Bonazzoli, che ha interrotto anzitempo la seduta a scopo precauzionale. Ancora parte a seguire i rispettivi programmi di riabilitazione Ugo Armando Campagnaro e Vincenzo Montella. Piscina al mattino per il Toro e cure fisioterapiche al pomeriggio. Vincenzino invece si è diviso anche oggi tra campo e palestra. Domani altra seduta pomeridiana a Bogliasco, preceduta dalla conferenza stampa di Walter Mazzarri, fissata alle ore 13.30. Alle 11 appuntamento invece a Marassi con Stefano Lucchini, protagonista della terza tappa di Impariamo allo stadio.